Ok ragazzi, rivoltate come un guanto a questo posto del... Area sicura, nessuna tratta dell'omicidio... Qua niente? sentito stanno arrivando tutti i distretti tra edison e ai fan sì lo so e per un solo uomo di essere roba grossa è un buco bello profondo secondo te ora non è il momento continua a cercare dicevo così per dire stai lontano dal bordo se scivoli nessuno ci resterà secco idiota ok ma tieni gli occhi aperti ahah certo certo ahah sì signore ci pensiamo noi ahah ahah d'accordo avete scelto il capo vedetevi piacere di vederti vedete ma che diamine di parole ah ah ti piacciono i libri vero beh stai tranquillo meglio di ma che cazzo funziona andiamo ma è colpa della porca Non posso parlare con voi, che è chiaro. Tu hai un'aria sbagliata. Aspetti, signore, dico a lei! Mer, sei tu! Non aspetta che tu... Sì, c'è una risseccata. Mi davo più lungo. Centrale, l'uomo a terra. Ha del sospetto neanche l'ombra. Intervengo. Centrale, sono ancora io. No, è ancora in vita. Ha avuto molta fortuna. Aspetta, forse era in TV. Quello l'ho già visto. Venite, mi servono dei rinforzi. Centrale, guardate John Town. Centrale 4. Guardali. Non la libera. Riatraccia di lui. Negativi. Nessuna traccia del sospetto, basta. Vieni. C'è un bel niente. Non importa chi è, nessuno può essere così in gatta. Entra la giusta. Grazie a tutti.